Attenuto, attento, 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 vai, bravo, ancora, 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 carica, 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 via, bravo. Ora usiamo l'elastico per portarti ad avere una forza ulteriore, quindi da vincere nello spostamento verso dietro, prima dalla parte del rovescio, poi lo facciamo anche dalla parte del dritto, quindi l'elastico crea uno sforzo per te più intenso, maggiore, che devi vincere andando indietro. Subito dopo che tu hai colpito io tiro, ti riporto in avanti per farti sentire che dopo l'impatto, o comunque all'impatto, se uno spostamento verso dietro, devi poi portare il peso del corpo avanti, quindi ti tiro per favorire il tuo rientro verso il centro del campo. Non alzare il gomito, vai, 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 via, forza! Vai, 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 via, forza! Vai, 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 via, forza! Vai, 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 via, forza! Attenzione! Via, 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 ok, forza! Via, 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 là, ok, ottimo! Via, 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 così, ruota subito il busto, ruota il busto, non allontanare troppo il gomito dal busto, eh, via! Nella preparazione, la preparazione con la racchetta immediata, bravo, slancia, bellissimo questo, perfetto, ok, via, sotto, ottimo, bel movimento, bella sbracciata, vai, 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 carica, ok, attenzione, vai, 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 carica, buono! Va bene la tensione dell'elastico? Va bene? O di più? Vai, non hai più fiato, quindi vuol dire che c'è, via, ok, stop! Dai, 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 via, bravo! Carica bene sul destro, lo scopo dell'elastico è quello di riportarti in avanti veloce, ok, vedi? Ti tiro in avanti la forza dell'elastico, dai, veloce, dai, 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 via, così è più carico, veloce, occhio, dai, bravo, dai, 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 su, bravo, dai, 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 forza sulle gambe, bravo! Molto, inizia la forza dell'elastico e veloce a tornare indietro, forza, quindi facciamo forza e velocità di rientro, dai, 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 forza! E visto che ti devi abbassare di più sulle gambe, devi fare più forza, devi vincere anche la forza dell'elastico, sto facendo fatica quanto te, grande, bel lavoro, faticoso ma molto utile, good job! Bene, vi aspetto presto qui a Marina Romea, se volete partecipare ai nostri stage di tennis, visitate il nostro sito web, vedrete il calendario degli eventi, qua sotto nella descrizione del video o qui sopra vedete comparire la scheda che vi riporta sul nostro sito web. Alla prossima, Roberto!